300 bambini delle scuole primarie di Fanno hanno partecipato anche quest'anno al concorso Da grande vorrei fare l'inventore, l'iniziativa nata nel settembre 2009 in memoria di Alessandro Carboni, il bimbo volato in cielo a soli sei anni a causa di una leucemia fulminante. Lo scopo del progetto, organizzato dall'associazione Il Piccolo Grande Alessandro, è quello di incentivare i bambini alla raccolta differenziata di rifiuti, allo stimolo della creatività e dell'inventiva, realizzando giochi con materiale da riciclo. E sono delle vere e proprie opere d'arte, quelle che ogni anno vengono valutate dalla giuria. Quest'anno composta dal professor Luigi Picinetti, da Stefano Furlani, artista fanese dei Sassi d'autore, dalla professoressa di scienze Manuela Dolci, dalla psicoterapeuta Claudia Marcelli e dalla mamma del piccolo Alessandro, Giorgia Marcelli. Il miglior progetto di questa settima edizione è stato quello intitolato I miei veicoli ecologici, realizzato da Ioselito Monaco, un alunno che frequenta la quinta B alla scuola Luigi Rossi. La seconda opera, invece, è frutto dell'impegno dei ragazzi della terza C del Poderino, la palestra ideale, terzi classificati, i giardinetti di Diego, Fedi e Filippo della scuola Luigi Rossi. Sono stati premiati con diversi gadget anche gli altri 250 bambini, in ricordo non solo di una bella giornata di festa, ma anche del lavoro svolto in classe, già da ottobre, quando i bambini hanno cominciato a mettere da parte i vari materiali per poi assemblarli nei mesi successivi. All'evento conclusivo, che si è svolto domenica pomeriggio allo Sport Park di Fano, erano presenti anche la presidente di Aset Spallucci a Capodagli e l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin, che ha confermato di poter esporre nei mesi estivi alcuni di questi progetti nell'atrio adiacente alla Sala della Concordia nel comune di Fano. L'8 maggio, inoltre, grazie alla collaborazione con l'Associazione Fosforo, le opere verranno esposte in uno stand della Fiera della Scienza a Senigallia.